Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, si torna finalmente dopo un po' di tempo alle recensioni librose e oggi, finalmente dopo tanto tempo, sono riuscita a recuperare un libro che avevo preso, penso, un paio di anni fa in occasione appunto anche del fatto che l'autrice, che poi conosco bene, era appunto lì a Tempo di Libi di Milano del 2017 visto che ne avevo sentito parlare bene e già avevo apprezzato il libro che è uscito dopo quello di cui mi accingo a parlarvi mi sono detta, ma sì, la trama è interessante, è il mio genere e poi questa autrice mi ha già convinto con il nuovo libro quindi sicuramente mi convincerà anche con questo che è precedente, quindi mi sono detta, perché no, visto che poi sarà anche qui me lo faccio anche autografare, sto parlando di questo Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley, questo appunto è uscito, questo appunto è anche l'edizione poi Gold è uscito circa, è uscito nel 2018, però era uscito già nel 2016-2017, se non mi ricordo male e appunto adesso si trova penso soltanto in questa edizione, oppure che costa appunto, sono insuperabili mi pare che costi o 4,90 o 5,90 perché purtroppo qui non c'è più il prezzo per la Newton Compton altrimenti recentemente so che è uscito il volumone, quello unico che racchiude appunto questo libro più altri due di Felicia, che se non sbaglio uno dovrebbe essere stronze si nasce e l'altro dovrebbe essere cenere dentro la manata ma prendetelo con le pinze perché io quel volumone ho visto solo di recente che è uscito ma non ci ho neanche guardato perché io quei libri ce li avevo tutti in formato singolo e quindi non sono stata neanche tanto a guardarci però anche così comunque se avete anche già gli altri due precisi, gli altri due che ho citato ma non avete questo lo trovate appunto in questa edizione mi accingo anche a leggervi la trama Gemma fa la truccatrice teatrale e vive in un seminterrato a Londra e collezioni successi in amore un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita la nonna Catriona, la stessa che ha desiderato sua madre per aver sposato un uomo qualunque senza titolo nobiliare ha lasciato a lei un'enorme ricchezza ma una condizione che sposi un uomo di nobili natali il caso vuole che l'avvocato di Gemma segua un cliente che non naviga proprio in acque tranquille Ashford, il dodicesimo duca di Burlingham, è infatti al verde e rischia di perdere insieme ai beni di famiglia anche il titolo Ashford è un duca, Gemma ha molti soldi, Ashford ha bisogno di liquidi, Gemma di un blasone scusate. Ma cosa può avere in comune la figlia di una simpatica coppia hippie che ama girare per casa nuda con un compassato lord inglese? Apparentemente nulla, il loro non sarà altro che un matrimonio di convenienza, un'unione di facciata per permettere entrambi di ottenere ciò che vogliono ma Gemma non immagina cosa l'aspetta, una volta arrivata nella lossuosa residenza di Burlingham Galateo, formalità, inviti, ricevimenti e un'odiosa suocera aristocratica e a quel punto sarà guerra aperta Io poi qui ho anche la dedica di Felicia che è una persona veramente stupenda, io e lei siamo amiche questo libro mi chiamava già da parecchio tempo, visto che quest'anno comunque mi sto dedicando almeno un po' ai recuperi che ho lasciato in sospeso tra il 2018 e il 2019 perché appunto non mi ricordo se questo appunto era tempo lì ma mi sembra che nel 2017 perché nel 2018 non c'è stato quindi sì, era l'ultimo tempo tempo di Libri a Milano Allora di cosa parlo? Questa storia comunque la trama è tutto un programma, è una trama alla Felicia perché appunto questo è il suo primo libro che è uscito perché stronze si nasce che è il libro con cui l'ho conosciuta, è uscito dopo questo e quindi adesso leggendo questo, avendolo letto dopo aver letto tutti gli altri, penso subito è una trama alla Felicia, Felicia appunto ha questo dono, è capace di unire comicità, commedia romantica e romanticismo allo stato puro in un connubio perfetto qui c'è da dire una cosa, i genitori di Gemma mi hanno ricordato parecchio quelli di Dharma, di Dharma e Greg ma la nostra Felicia nella diretta che ho fatto su Instagram con lei per promuovere la sua novella che è uscita da poco, mi ha confermato che non è così, che è una cosa completamente casuale però ha anche detto che comunque essendo due genitori hippie è normale che comunque se in Dharma e Greg c'erano questi due personaggi è normale che insomma me li abbiano ricordati sebbene appunto non c'è stato niente ma ci tenevo a dirvelo perché me li hanno ricordati parecchio sebbene non mi ricordo se quelli di Dharma giravano nudi per casa comunque sia, questi due personaggi sono veramente, non potrebbero essere più diversi Gemma appunto è una persona molto, molto diciamo, che si fa notare ecco, è una truccatrice, è una persona molto eccentrica, anche molto eclettica si può dire anche nell'abbigliamento insomma non è che spicca ma diciamo in senso molto negativo non è che abbia molto buon gusto, usa trucco pesante, vestiti un po' pacchiani insomma in un ambiente come quello di Ashford una persona del genere insomma ne parli male sebbene comunque nell'ambiente di Ashford appunto continuano più le apparenze della personalità e appunto Gemma quando si incontra con Ashford figuratevi che la scambia per la cameriera cioè vi dico soltanto questo, quindi iniziano proprio dei più idilliaci ma appunto hanno bisogno l'uno dell'altro, una per ereditare visto che poi è rimasta anche senza lavoro e ha subito diciamo l'ennesima delusione d'amore e l'altra invece appunto sta per perdere tutto e ha bisogno di soldi quindi di conseguenza c'è questo matrimonio che non comincia poi sotto i migliori auspici perché da una parte vorrebbero appunto mantenere separate le loro due esistenze ma dall'altra c'è appunto questa figura che è quella di Lady Delfina che assolutamente non approva questa unione, loro sì le fanno credere che è stato per amore tutto perché se la madre scoprisse che la famiglia ha la canna del gas figurati muore lì sul colpo e francamente forse Ashford avrebbe dovuto dirglielo perché veramente io cioè Delfina è un personaggio fatto per essere detestato, cioè anche Felisa l'ha detto è proprio la componente da detestare, è un po' comica per certi versi perché poi quando mangia le torte al peyote di Carly che è la madre di Gemma è uno spettacolo però è proprio la componente da detestare, cioè io non ho mai visto, io non ho mai detestato ma anche che è riuscito anche a farmi divertire un personaggio come ha fatto Delfina in questo libro poi Delfina, mi cazzo si fa a chiamare una figlia Delfina? ma lei vuoi male appena è nata, cioè Ashford ok è un nome ancora carino ma Delfina mi cazzo si fa a chiamare una bambina Delfina? ma l'hai vista e l'hai odiata perché boh per qualche motivo che non stai bene vabbè in quell'ambiente ci sono tutti nomi stranissimi a partire appunto da Portia, Portia che anche quella è la componente proprio è la componente evil diciamo della storia poi vabbè ci sono tanti altri personaggi ci sono appunto Arring che è il migliore amico di Ashford che è un personaggio secondo me è il migliore amico che tutti vorremmo avere pilota di Formula 1, è un nobile che esce dagli schemi e poi c'è Cecile che diventa diciamo la pseudo migliore amica di Gemma l'unica che davvero se ne frega delle apparenze anche perché anche lei non è molto ben vista in società a causa appunto delle sue origini francesi quindi vedete sembra proprio di essere nel medioevo in tempo moderno questa gente veramente dovrebbe togliersi un po' la scopa dal culo e godersi un po' di più la vita ci sono veramente certi scenari appunto che sembrano di sketch comici sebbene appunto qui a differenza di Due Cuore in Affitto la cosa non sia stata voluta da Felisa però a me piace, a me sono piaciuti tantissimo a certe scene appunto che sono un po' siparietto sitcom e un po' appunto momento anche un po' di intenso perché comunque Gemma non è che vive bene questa situazione per quanto comunque non cerchi neanche di fare nulla per ovviare a tutto questo insomma all'inizio Gemma se ne sbatte anche un po' poi alla fine però capisce forse visto che comunque dobbiamo stare sposati un anno forse è il caso che comunque se voglio far smettere la gente di farmi parlare dietro devo darmi una regolata anch'io quindi comincia anche un bel processo su se stesse e qui appunto anche Ashford vedendo l'impegno che Gemma ci sta mettendo per mantenere la facciata attiva e non farlo andare nei guai decide anche lui appunto di essere un po' più morbido da qui cosa nasce cosa ma naturalmente ci deve essere sempre la componente evil che appunto è composta da Porzia questo è appunto un libro alla Felicia è un libro bello, divertente, frizzante, romantico, ironico, irriverente ti strappa grasse risate ma ti dona anche tantissime emozioni poi lo stile di Felicia è sempre fluido scorrevole i capitoli si bevono i personaggi poi sono caratterizzati bene io Felicia non so se l'hai già scritta magari me la sono persa non so se ce l'avrai mai in programma ma io voglio un romanzo o perlomeno una novella su Cecilia Arring io li voglio assolutamente ne ho bisogno, li necessito perché veramente sono i due comprimari più irriverenti e fantastici che io ho mai conosciuto quindi davvero non posso che dargli 5 stelle piena a questo romanzo perché davvero in questo periodo poi va bene che ormai tra un po' stiamo diciamo io sto registrando questa recensione il 26 di aprile il 4 di maggio dovrebbero lasciarci con la bria un po' più sciolta però rifaccio anche il mio appello qui anche se avremo la bria un po' più sciolta non ricominciamo a fare i matti perché basta una piccola cazzata per tornare di nuovo tutti in quarantena e stavolta per un anno quindi facciamo i bravi appunto in questo periodo appunto anche un po' di stress che se si vuole evitare di pensare di sognare un pochino di divertirsi e tutto questo libro è l'ideale anche perché comunque già soltanto per gli sketch comici di Delfina quando è fatta di torta al peyote vale soltanto ancora la lettura poi Gemma e Ashford comunque sono due personaggi caratterizzati bene sono l'uno l'opposto dell'altro ma come si sa gli opposti si attraggono veramente poi i loro battibecchi le loro punzecchiature solo da manuale quindi ragazzi davvero se cercate un libro per distrarvi un po' per sognare per divertirvi per emozionarvi non fatevi scappare assolutamente questo romanzo ora come sempre da un po' di tempo a questa parte partiamo con il giochino dell'estrattino come sapete questo è un giochino che faccio su Instagram solitamente durante il consiglio letterario che faccio tutti i giorni nel pomeriggio e quindi ho deciso di portarlo anche qui nelle recensioni se ve lo siete perso appunto vi spiego più o meno come funziona io prendo il libro sollevo alzo gli occhi apro scelgo l'estrattino a caso pianto il piede in mezzo all'uscio e facendo i gradini a 3 a 3 arrivo davanti all'appartamento del genitore di Gemma il pianerotto l'ha impregnato di odore di incenso e qualcos'altro e dall'interno proviene il suono gracchiante di un giradischi busso con energia signori Pierce Pierce scusate sono Ashford il marito di Gemma arrivo grida una voce femminile dall'interno Dio ti prego fa che siano vestiti Ashford che sorpresa il mio eroscopo Maya non aveva previsto nessuna visita mi apre mia suocera vestita avevano previsto la fine del mondo nel 2012 e la stiamo ancora aspettando non mi fiderei molto di questi Maya ribatto io non stare lì sulla soia entra accomodati sto bene in piedi posso offrirti una tazza di chai? sono a posto grazie andiamo il chai fa sempre bene pulisce l'anima spero non sia un eufemismo perlassativo giusto un sorso Gemma non è con te no in verità era piuttosto scossa stamattina mi ha raccontato di un problema che vi riguarda sono venuto per parlarne con voi non c'è suo marito? come no? è tornato dalla radio poco fa è sul tetto di annaffiarificus lo chiamo poi Carly si sporge dalla finestra e grida Vance scendi da lì c'è Ashford Vance rientra ancora con l'annaffiatoio sgocciolante in mano ecco mi fermo qui perché comunque questo potrebbe anche essere un po' spoileroso come estratto insomma dà l'idea un momentino dei genitori soprattutto di Gemma di Gemma insomma di Carly e Vance ecco qui appunto Ashford sta facendo diciamo la prima cosa gentile verso Gemma per tutto questo tempo vedendo appunto l'impegno che sua moglie ci sta mettendo per migliorarsi e per non fargli fare più brutta brutta figura come ho detto questo è l'ideale in questo momento per distrarsi sognare divertirsi ed emozionarsi bene questa recensione si conclude qui spero che vi sia piaciuta spero soprattutto che sia piaciuta a te Felicia se la stai guardando io ti ringrazio ancora per la dedica ti ringrazio ancora per la tua amicizia e per la tua stima che grazie al tuo stronze si nasce che ci siamo conosciute e chi ti molla più di questi tempi quindi grazie grazie spero che la recensione ti sia piaciuta vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il mio Instagram che è il social su cui sono più attiva venite a trovarmi seguitemi mettetemi like se avete voglia le mie foto le mie stories che mi fate tanto tanto contenta vi ricordo che ogni pomeriggio sono sempre sulle stories di Instagram con il consiglio letterario pomeridiano adesso adesso magari se finisce la quarantena tornerò a farlo serale ma non lo so perché mi sta piacendo farlo il pomeriggio quindi magari resterà così finché non mi stuferò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione alla prossima reaction ciao a tutti